Buon anno a tutti gli spettatori di Super J. Inizio di anno con il botto per quanto riguarda il clima. Da poche ore infatti siamo interessati dal primo di una serie di impulsi gelidi provenienti in origine dal polo nord e diretti verso i Balcani e successivamente a più riprese destinati anche alla nostra penisola, in particolar modo alle regioni centrali e meridionali lato Adriatico. L'immagine dal satellite mostra chiaramente come sull'Adriatico si stiano formando corpi nuvolosi che vanno ad impattare sulle coste esposte dalle Marche fin sulla Puglia. L'area gelida favorirà precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a quote via via sempre più basse fino ad interessare anche le località costiere durante la notte. Domani mattina l'intera regione fatta eccezione per la parte più occidentale sarà coinvolta in nevicate che però con il passare delle ore andranno scemando. Dopo una breve pausa dei fenomeni nella seconda parte di domani attenzione massima alla giornata di venerdì che dovrebbe essere quella con i fenomeni più intense e con gli accumuli a terra della neve maggiori ma ne parleremo meglio nei prossimi collegamenti. Andando a vedere la mappa previsionale per la giornata di domani dopo le nevicate estese anche se non molto intense della sera notte su buona parte della regione al mattino la neve continuerà a cadere su Terramano, Pescarese e Chietino fin sulle coste ma soprattutto su Sulmonese ed estremo sud dell'Abruzzo dove si attendono gli accumuli maggiori. Più protetta la Marsica dove i fenomeni saranno solo occasionali. Con il passare delle ore i fenomeni andranno diminuendo e ci sarà come detto prima una pausa ma davvero breve perché venerdì arriverà un nuovo impulso con nevicate estese e copiose. La ventilazione sarà sostenuta di bora ed anche i mari risulteranno molto mossi. Un'attenzione particolare alle temperature che sono previste in rapida diminuzione. Le minime della notte scenderanno sotto zero un po' ovunque con le conche aquilane che registreranno i valori più bassi, valori compresi tra meno 3 e 0 gradi. Anche le massime di giornata saranno molto rigide e comprese tra 1 e 4 gradi. Dunque invito tutti a spostarsi soltanto per effettiva necessità e comunque con mezzi appropriati visto che il fondo stradale risulterà certamente ghiacciato. Un saluto da Marco e buona serata a tutti.